ehi la ciurvari eccoci esattamente dove siamo lasciati lo scorso episodio a lui ancora del del danno è con questo da fa con un pugno gli ha fatto esplodere le braccia di quello di forza c'ha ah c'è della gente di qua vorrei un passettino in qua giusto per essere più sereno e dai per non sprecare usiamo questo e no no l'ha sprecato lo stesso ah l'ha schivato grande ahia ne arrivano altri da fuori ma è pieno di gente come faccio a stenderli tutti sono tantissimi pure le punte fuori è scudato però e non è andato giù porca pupazza eh lo so povera eh lo so povera poi possiamo sopravvivere alla situazione però qua si è messi malino si auto pixel buono eh no farei un flag su lui ma eh ok ah no non posso comunque fare un flag anche perché ha il coso parato che queste persone sono così Provererei a far perdere la morale a questo uo qua. Ok, l'ha spaventato abbastanza. Bravissimo. Ma se non sono stupidi porti, ma cavolo di problemi hanno. Allora, il fatto è che nessuno di questi ha delle purine per la nostra Iulia, purtroppo. Lei forse con Nutcracker riesce a stendere... Brava. Brava. E poi vieni qua. Lei ha ancora un'acqua, ma... Frightened mi sa che non è in tiro. La posso provarci. Vai qua e spaventa, lui va. Solo lui si è spaventato, purtroppo. Se vuole ancora farcela, ma è tostarella. Non so quanti li abbiamo ancora, ma... Questo dà più danno su uno è flunked. Però lui si prende un tiro d'opportunità comunque. Eh, questo purtroppo non può... La sangue non è... Ma quello non è rimasto terrorizzato. C'è uno che sta scappando da là sotto, tipo. No, tu vai di qua, così almeno vi ho. Però questo c'è un incapacitativo character. Io non possiamo incapacitarlo, però, eh. Eh, cerchiamo di sfondare la porta qua. Non so se vuoi dire. Deia Neire è messa abbastanza male. Ehm, sta seguendo o no? Ehm, sta seguendo o no? Ehm, sta seguendo. Ha qualcosa che non sia così... Violento, no? Non posso fare altro con gli altri, più che altro Eh, vai qua e poi Nasconditi fortissimo Perché se no mi sa che ce l'ha Ah, ma lui è ancora per terra l'altro Mi spaventalo, please Così finito tu che giù per terra No Facca Eh, però mi ha circondato con i cosi Porca miseria Sì, Ross, mi spiace ma dovrei passare sulle punte Grande Ok, ci abbiamo fatto Eh, la lenta, dimmi cosa è successo, dove sono le guardie Chi erano queste persone? Chi erano queste persone? Eh, andate a liberare i servi, troverò il proponso Non so se non lo so 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 E' un po' di roba qua Non so se non lo so Sul fatto che lui si è preso Comunque una Perita abbastanza brutta Ma lo c***o c'è ancora quindi Beh, mi ha detto di andare qua Ah, è vero Perché si sapeva uno solo che deve andare Non mi sembra una buona situazione però quella Dove... dove si entra nello studiolo di Bukulu Cosa? Qua quà quà? Qua quà? Scusate, Dominè Mh L'ho tolto di mezzo Era prevedibile purtroppo Ma posso armarmi adesso? Scusatemi Ma devo Riselezionare tutto dall'inizio? Allora intanto mettiamo le skill Ma poi l'inventario Me lo gestirò in un secondo momento Off camera Più danno agli scudi Ci piace A lui invece diamo Cos'è che ha? Guardian Angel Ok Può fare la shield wall Io non so se ci stavo a meno Ma andiamo a finire quel percorso Cos'è che ha qua? Ok Mi pare questo Lui invece ha Eh questo non è male Questo non è male Allora lei ha il powerful kick Che non è male Raddoppia il danno Questo invece gli darà knockdown Vai Ehm Gli infiniti giorni Eh It's all treatment Purtroppo perché Meglio che mi fixi qua E inventare niente Ce lo copriamo dopo Adesso vediamo un attimo qua Il discorso Parliamo con Yulia Cosa dice? Tu osservare a vuoto mi preoccupa Penso che dovresti riposarti un po' Non ho bisogno che tu sia arrabbiato Ho bisogno che tu stia concentrata Non ti preoccupi Io sono anche focussata Penso che ci sia detto tutto questo Che ho ucciso lo culo Lui pensa che abbia lasciato i servizi vivi Tutto bene Siros Tutti i buoi ero prima o poi Siros meglio non morire con loro Lascia che pensiamo a quelli che vivono Tu pensi che sia stato ucciso Dalle spalle Ok Questo è strano Perché non combattere Con chi cerca di ucciderti? Ok C'è stato ucciso Con un piccolo Stabbing Dagger Judging From the wounds I can tell The particular shape The blade had Such blade Are rare in Rome But quite common in Africa Ho detto questo quadra Con il fatto che Ma l'avevano già detto prima Cioè è inutile che faccia tutto questo Preambolo Hanno già detto prima che Scaevola Voleva far sembrare una rivolta egiziana Contro i romani Ma in realtà era tutto mosso da lui Come ha fatto in Asia insomma Per cui È ovvio che fanno la firma di Sono stati gli egiziani Sono stati gli egiziani Non saldiamo a conclusioni affrontate C'è 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 A 30 C'è C'è E' Se è stato l'urco a farlo se ne occuperò la giustizia. Ho spero che mi permette di servire la prossima consola. Mi sento scopo. Mi sentite molto a te. Come ti sentite? Non importa come mi sento, questo è stato un crimine terribile contro Roma. Non si può essere evitata. Ha anche ragione. Non è tempo di ridere, questo uomo è stato appena assassinato, non c'è nulla di buono di questo. Cosa pensi che dovremmo fare? Il nostro corso è chiaro, sappiamo che sono gli egiptiati, certo? Ora, la prima cosa che dobbiamo fare è iniziare a matare gli egiptiati. Inizialmente otteneremo il morto, probabilmente prima che tutti gli egiptiati saranno morti. Vedi? È cautioso e uomo, proprio come Sinaros ha detto. Non sembra qualcosa che direbbe Sinaros, forse hai compreso male le sue parole. Nontenso, non ho mai capito. Stai in guardia a me se sta arrivando la vera. Spero così. Domine. Come sono arrivati a Rilla? Come Roma e Legionari, non avevamo ragione per sospettarli. Erano tutti egiptiati, immaginati fosse un po' sospetto. Non all'altro. La legione ha persone da tutto il mondo. Il proconso non era sorvegliato tutto il tempo. Inoltre, è veramente accaduto troppo velocemente. Allora, inizialmente, i legionari iniziarono a sbagliare l'altro. Non conosciamo cosa fare. Allora, quando ho capito cosa sta succedendo, era già troppo tardi. Come posso sapere che non stai lavorando per loro? Tu stavi scappando e... Quando tutti... Cioè, tu stavi in giro quando tutti erano... Incarcerati e tu avevi le chiavi. Ma non sono. Le chievi? Abbiamo anche le chievi. Spero, non sto lavorando per loro. Non so perché mi hanno preso. Non ho ragione di credere, ti vivrai, ma per il momento... Domine. Legate. Un rider è arrivato. Vuole parlare con il proconsul Lucchius Licinius Lucullus. Dice che la sua vita potrebbe essere in danger. Dice che è un po' tardi. Dice che è un po' tardi. Che fai a sperare di avere un solo proconsul? Ah... Che fai a sperare di avere un solo proconsul? Dice che è un po' tardi. E ti sei instruzione a parlare solo con lui. È una cosa di vita e morte. Che fai a sperare di avere un solo proconsul? Ho visto lui prima e tu non sbagliare a lui a tutto. Chi sei? Il proconsul Lucchius Lucullus è morto di recente. Sono legato Giulio Semprone a Mezzetess e in questo momento sto agendo con il proconsul in sua vece. Con chi sto parlando? Sì, è infortunato. Sono chiamata Lunia the Golden Wolf, della terra di Nazamones. Sento dalla sua majestà Cleopatra, Filopatora, Thea Filopatora. Dottore di Ptolemy, Euletes, Nios, Dionysysos, Filopato, Filadelfos. La Queen ha intenzionato a warnare il proconsul contro la possibilità di un'assassinazione. Ma sembra che ero in bisogno di un cavo più rapido. Lui piace giocare la fluta. Il pharaoh ha molti titoli. Alcuni tradizionali, alcuni unici. Auletes significa fluta. Ah ok. Perché ti chiamano l'uppo dorato? Il suo significato è di piccola importanza. Prima di tornare a bianco, il mio pezzo era il colore di bianco. Ok. Oh, è molto inusuale qui. E quindi è vero di un nome. Ok. Chi voleva uccidere quello morto? Può venire come una sorpresa a te, ma non tutti gli piace i romani. Per quanto riguarda l'identità del matrimonio, sono sicura che la Queen ti può aiutare con le risposte più chiude. Ok, andiamo a incontrarlo all'ora di Milo e l'ora è il posto. Certo. Questo sarebbe davvero il migliore corso di action. Ma che c'è una complicazione minore che hai bisogno di risolvere prima. Oh, mio. C'è sempre una risposta. Cleopatra non vedo l'occhio per l'occhio con il suo figlio. Il pharaoh Ptolemy Theos Philopator ha exilato l'ho da Egipto. Ah. Ha stato preso da un caravan nel deserto, a un palazzo distante dove sarà imprisposta. Ha proposto riveliare l'identità del matrimonio a te, se tu la liberi. Cosa ti ho risposto? Ma chiedi a... Fratello, se la regina non farò non dovrebbe essere il suo marito? Sì. Il pharaoh è il suo marito e il suo fratello. Grazie. Ti terremo qui come ospite, comunque, nel caso che la tua padrona si dimentichi improvvisamente. Cosa devo fare? Ma sapete che non è la mia signora. Grazie per salvare noi, Dominare. è urgente. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.